I ragazzi della Quinta Citele Comunicazioni dell'ITT e l'SSA Nicolo Copernico di Barcellona Pozzo di Cotto hanno presentato i risultati del progetto di alternanza scuola-lavoro chiamato Smart School e Smart Environment. Un progetto interessante, i cui rilevamenti condotti nell'ambito dell'inquinamento elettromagnetico potranno essere a disposizione dell'intera comunità barcellonese. Naturalmente abbiamo attenzionato soltanto due ponti radio, uno vicino alla nostra scuola e uno vicino a una scuola elementare. Con questo progetto i ragazzi sono usciti sul territorio e si è cercato di sensibilizzare l'attenzione dei ragazzi all'ambiente in cui vivono. La manifestazione di oggi valorizza un modo vincente di fare scuola basato sul lavoro di ricerca e sul lavoro di rete, di squadra con gli enti locali e con l'ARPA Sicilia. I ragazzi imparano a scuola attraverso attività coinvolgenti ad essere cittadini migliori e di fatti hanno lavorato sul campo attraverso gli strumenti messi a disposizione dell'ARPA e dall'Ufficio Tecnico del Comune di Barcellona. Speriamo che col nostro contributo possa aiutare un po' tutti ad essere un po' più coscienti di quello che riguarda appunto questa forma di inquinamento che è davvero interessante e problematica allo stesso tempo perché se non è controllata nella giusta maniera può causare davvero gravi danni a tutti quanti noi. Durante il nostro progetto abbiamo fatto diverse uscite, la prima riguardava l'emittente televisiva AM, appunto siamo andati a Capodorlando e abbiamo visitato gli studi AM e anche i ripetitori situati nella collina di San Martino. Dopodiché abbiamo avuto altri tre incontri con l'ARPA Sicilia. Durante il primo incontro l'ARPA ha spiegato quindi il lavoro che svolge quotidianamente riguardo soprattutto l'inquinamento elettromagnetico. Mentre durante il secondo incontro ci siamo occupati di andare su due terrazzi sui quali abbiamo installato delle centraline che rilevavano il grado elettromagnetico delle antenne. Per noi di ARPA Sicilia e soprattutto nella struttura territoriale di Messina è stato veramente un piacere poter incontrare innanzitutto un istituto che guarda con attenzione le tematiche dell'ambiente. In questo caso abbiamo considerato i campi elettromagnetici ma tanti potrebbero essere le possibilità di colloquiare con i ragazzi cosa che è stata per tutto questo percorso la situazione principale. Abbiamo colloquiato, abbiamo affrontato sia la parte tecnico-scientifica ma direttamente poi c'è stato un coinvolgimento in campo.